Il destino dei tribunali minori abruzzesi al centro dell'attenzione dopo la prima proroga ottenuta. Ora la minaccia incombe di nuovo e proprio ieri a tornare sul tema è stato il vicepresidente al Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che già tempo addietro si era abbattuto per la loro sopravvivenza. Io penso che sia maturo il tempo nel quale il Parlamento si pronuncia. So che i parlamentari abruzzesi tutti hanno espresso un orientamento in questa direzione. Naturalmente bisognerà vedere se la volontà dei parlamentari abruzzesi diventerà poi maggioranza in Parlamento. Questi uffici all'approssimarsi della data prevista dalla legge vigente sulla ipotesi di chiusura soffrono tantissimo. Io penso esattamente oggi nella mia funzione ciò che pensavo quando esercitavo altre funzioni pubbliche. E cioè che l'Abruzzo abbia subito un taglio di uffici giudiziari eccessivo, superiore alla media nazionale. Nel quadro nazionale, spiega il vicepresidente, la media delle chiusure si attesta al 28%. In Abruzzo invece arriva al 50%. Sul caso dei quattro tribunali a rischio, arriva anche un'esortazione rivolta a quelli di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano. Penso che Lanciano e Vasto e Sulmona e Avezzano debbano farsi portatori di una proposta.